Buonasera ragazze, buonasera sorelle, sono molto felice di essere qui con voi per parlare di un argomento che mi piace tantissimo, cerco di sistemare qui, scusate, spero che mi vedete bene, un argomento molto importante per noi in quanto discepoli di Gesù, in quanto mamme, in quanto mogli, in quanto figlie, amiche e l'argomento è la gioia e più importante l'argomento è come possiamo avere gioia, nessuno ha dubbi che la gioia sia una cosa bella e quanti noi vorremmo essere gioiose e a volte ci sentiamo così schiacciate, abbiamo un approccio alla vita così triste perché non riusciamo a capire come essere persone gioiose, allora la scrittura ha un insegnamento su questo, che cosa ci dice la scrittura riguardo a questo argomento? Allora io vorrei intanto che voi prendiate la vostra Bibbia, prendete anche carta e penna perché vorrei che vi scriveste alcuni versetti che noi vedremo qui oggi che è molto importante che voi dopo andate a riguardare quello che noi diremo oggi. Allora partiamo sempre come sempre e principalmente dalla scrittura, noi andiamo a Galati al capitolo 5 al versetto 22, è un brano della scrittura molto famoso che dice così, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Allora questo testo qui parla del frutto dello spirito, che cos'è il frutto dello spirito? Il frutto dello spirito è il risultato della presenza dello spirito santo nella vita del credente. Quindi noi capiamo che quando lo spirito viene a dimorare nella vita di un credente, lui comincia immediatamente a produrre dei risultati visibili, manifesti e questi risultati lo vedremo tra un pochino. Ma dobbiamo anche capire se il frutto dello spirito è il risultato della presenza dello spirito santo nella vita di un credente. Ci possiamo domandare quando è che una persona riceve lo spirito santo? Quando è che un credente può dire sì lo spirito santo dimora in me? La scrittura, l'insegnamento di questo, grazie a Dio nella scrittura, è molto chiaro e possiamo credere che quando un credente crede a Cristo e crede al messaggio del Vangelo, lui può credere a Cristo e alla sua parola soltanto a causa del lavoro dello spirito santo nella sua vita. La scrittura dice in Efesini, segnatevelo, al capitolo primo ai versetti 13 e 14, dice che quando una persona ascolta il Vangelo e crede al Vangelo e crede in Gesù, questa persona riceve lo spirito santo come una garanzia, come un sigillo di che quella persona appartiene a Gesù. Il Signore ci dà lo spirito santo perché lo spirito santo che una volta che lui dimora in noi, lui finirà il lavoro, porterà a buon fine la buona opera che Cristo ha cominciato in noi. Quindi quando noi crediamo a Cristo, quando noi crediamo alla scrittura, quando noi ci ravvediamo dei nostri peccati, in quel momento noi riceviamo lo spirito santo. Possiamo dire che se abbiamo creduto e ci siamo ravveduti, è solo perché lo spirito santo ha fatto quest'opera in noi. Quindi sappiamo ora che cos'è il frutto dello spirito, sappiamo quando riceviamo lo spirito, ma che cos'è questo frutto dello spirito santo, che cosa fa lo spirito santo quando viene ad abitare in noi. Ora lo spirito santo quando viene ad abitare in noi, lui comincia immediatamente a produrre in noi i risultati che Dio ha pensato che esso doveva produrre in noi. E l'opera principale, l'opera principale dello spirito santo in noi è farci assomigliare a Gesù. Se noi guardiamo il frutto dello spirito, così come abbiamo letto, sembra proprio di vedere una fotografia di Gesù, della persona di Gesù, del suo carattere. E la camminata cristiana è questo, il discepolato è questo, la nostra condizione di discepoli consiste esattamente in questo, è l'opera che Dio fa in noi costante nel tempo di trasformarci e renderci più simili a Gesù. Quindi lo spirito santo comincia a lavorare nelle nostre convinzioni, nel nostro carattere, nelle nostre emozioni ferite e lì trova tanto lavoro da fare. Tutto questo al fine di renderci simili a Gesù. Ora la scrittura dice subito e chiaramente che noi non diventeremo perfetti, però ci promette che lo spirito santo non smetterà mai di produrre i suoi frutti. Quindi nella nostra camminata, anzi nella nostra corsa per usare i termini dell'Apostolo Paolo, noi cadremo, ci rialzeremo, faremo tre passi avanti, uno indietro, ma la nostra camminata è sempre in progresso e noi dobbiamo sognare e ambire di vedere un'opera potente dello Spirito Santo nella nostra vita. Dobbiamo volere, ambire, sognare di vedere i frutti eccellenti dello Spirito Santo nella nostra vita. E uno di questi frutti di cui parleremo oggi è la gioia. Prima di parlare di gioia, cominciamo per definire che cosa è gioia e anzi cominciamo per dire che cosa non è la gioia. La gioia non è un lato di carattere, la gioia non è un'emozione, non è allegrezza, non è avere un carattere solare, non significa essere ottimisti, non significa essere divertenti. La gioia è un frutto, è qualcosa che abbiamo visto è prodotto dallo Spirito Santo e che può appartenere a ogni credente. Anche quei credenti un po' malinconici, anche quei credenti un po' pessimisti, sì lo sapete la conversione non azzerra il nostro carattere, noi abbiamo i nostri tratti caratteriali che il Signore ci plasma, ma noi non veniamo azzerati. E quindi tutte le persone possono ricevere gioia e essere persone gioiose. Quindi dicevamo che una di queste opere che lo Spirito Santo produrrà nella nostra vita è la gioia, che non significa un lato di carattere, una personalità, un modo di personalità. E allora che cos'è? Che cos'è la gioia? La gioia, come tutti i frutti dello Spirito, è un'opera trascendente dello Spirito Santo nella nostra vita. Al pari della pace, vediamo nella lettera dell'Apostolo Paolo Filippesi, che dice che la pace di Dio supera ogni intelligenza, anche la gioia essendo un frutto dello Spirito possiamo dire che è un risultato che Dio produce in noi a prescindere da quello che stiamo vivendo, a prescindere dalle situazioni che stanno intorno a noi. Ed è bene dire anche che la gioia non è un dono che dobbiamo simulare. Lo sapete che a volte alcuni credenti quando leggono i frutti dello Spirito si scoraggiano perché pensano così. Ah, io sono un credente, allora io devo essere gioioso, amoroso, paziente. Si scoraggiano perché pensano che loro stessi devono fare un'opera di trasformazione in se stessi, ma non è così. La scrittura dice che è un frutto dello Spirito. Lo Spirito Santo ha il copyright di questi frutti perché è Lui che produrrà questi frutti in noi. E allora dicevamo che avere gioia non è l'arte di autoconvincersi di che tutto va bene, non è l'arte di cercare di non vedere la realtà, di far finta che va tutto bene, al contrario. Avere gioia è cercare di vedere tutto, di vedere bene, di vedere oltre le apparenze e di vedere il mondo e la vita e le situazioni con occhi spirituali. Con occhi spirituali. E cosa significa leggere la vita con occhi spirituali? Invece di cercare di definire questo concetto, io vi racconterò un episodio tratto dalla scrittura che illustra molto bene questo concetto e lo troviamo nel libro di Seconda Re, al capitolo 6, segnatevelo, segnatevelo perché lo dovete leggere tante volte e ricordarvi questo episodio. Seconda Re, al capitolo 6, dal versetto 8 al 17. In questo pezzo della scrittura racconta la storia al tempo del profeta Eliseo il re siriano Ben Haddad cercava continuamente di muovere guerra contro Israele. Dio però rivelava ogni singolo progetto del re Ben Haddad al profeta Eliseo che stava in Israele. E il profeta Eliseo raccontava sempre tutto ai re di Israele di modo tale che i progetti, i piani del re di Siria venivano continuamente frustrati. Ben Haddad a un certo punto domanda ai suoi e dice ma chi è dei nostri che ci tradisce? I suoi rispondono re, nessuno ti tradisce. E' solo che Dio rivela ai profeta Eliseo che stava in Israele perfino le parole che tu dici mentre dormi. Allora il re Ben Haddad si arrabbia e manda a Israele, in Israele, un gran numero di cavalli, carri e cavalieri a prendere Eliseo. Al mattino presto il servo di Eliseo esce fuori dalla casa dove stavano e guardando le colline che li circondavano vide che loro erano completamente accerchiati. E lui sospira dicendo ah mio signore come faremo? Eliseo gli dice non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo quindi fa questa bellissima preghiera a Dio e dice Signore apri gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi al servo ed egli vide a un tratto il monte pieno di cavalli e carri di fuoco intorno a Eliseo, lui a prendo gli occhi ha visto un intero esercito celeste che combatteva per loro, combatteva al posto loro. Ecco questo significa vedere la vita con occhi spirituali, è vedere che Dio sta lavorando anche quando sembra di no, è vedere che Dio è all'opera, è vedere che Dio non ha tirato indietro la sua mano e che lui sta compiendo il suo piano anche quando non ci sembra. Quindi la gioia è un tipo di felicità fondata sulle immutabili promesse divine. Abbiamo visto che la gioia è un frutto dello spirito, abbiamo visto che la gioia viene prodotta quando noi cerchiamo di vedere la vita con gli occhi spirituali ed è un tipo di felicità fondata sulle immutabili promesse divine. La gioia quindi è il risultato della fede in alcune verità bibliche. Quindi perché io possa credere in queste promesse del Signore per me, io le devo conoscere. Quindi io conosco le promesse di Dio per me che trovo nella scrittura. Lo Spirito Santo mi aiuta a credere in queste promesse e sempre lo Spirito Santo mi dà potenza perché io viva secondo le promesse. e quindi io conosco le promesse attraverso le scritture. Lo Spirito Santo mi aiuta a credere a queste promesse e mi riveste di potenza perché io possa vivere secondo queste promesse. Sapete che nel momento della difficoltà noi non abbiamo bisogno di sapere dieci miliardi di concetti, noi abbiamo bisogno di una manciata di promesse di Dio ben salde nella nostra mente. Se noi sappiamo che Dio ha il perfetto controllo del mondo e della storia, niente fugge al suo controllo. Noi sappiamo che la nostra vita ha un proposito. Quando tutto sembra un caos, l'agenda di Dio va avanti. Dio sa cosa è meglio per noi, Dio sa che cosa Lui sta facendo. Noi sappiamo che noi passeremo delle tribolazioni, ma Dio non ci abbandona mai. Noi crediamo che Dio può cambiare la nostra vita e la nostra storia non importa quello che stiamo vivendo. e noi crediamo che quando Dio non cambia le situazioni immediatamente è perché Lui sta cambiando noi. Quindi Dio è sempre all'opera. Allora, se la gioia è un frutto dello Spirito, abbiamo detto che lo Spirito Santo ha i copyright su questo risultato, su questo effetto che Lui vuole produrre in noi, allora noi non possiamo da soli produrre gioia nel nostro cuore e allora veramente non c'è niente che possiamo fare? No, c'è qualcosa che possiamo fare. Se è lo Spirito Santo che produce in noi gioia, cosa possiamo fare? Cercare di essere ricolmi dello Spirito Santo. È buffo perché a volte noi cerchiamo con tecniche, strategie, azioni, e noi cerchiamo di produrre i frutti dello Spirito nella nostra vita. Se voi andate in libreria troverete 10 miliardi di mosse per diventare una persona paziente. A metà del libro siamo già andati fuori di cervello. Lo Spirito Santo non si aspetta che noi produciamo questo in noi, Lui lo sa che noi siamo carnali, paurosi, iracondi, e allora Lui dice produrrò io questi frutti nella tua vita, tu però riempiti di Spirito Santo. E quindi è questo che noi possiamo fare, noi possiamo e dobbiamo cercare di essere ricolmi di Spirito Santo. Noi sappiamo che la scrittura dice che tutti i credenti hanno lo Spirito Santo, perché se non fosse per lo Spirito Santo non ci sarebbe nessuno credente. Quindi tutti i credenti hanno lo Spirito Santo, ma non tutti i credenti hanno la stessa porzione di Spirito Santo. E la misura della porzione di Spirito Santo che avremo determinerà quanto frutto noi avremo nella nostra vita, quanto il nostro carattere sarà cambiato. Allora come io posso, se io non posso produrre frutto dello Spirito, ma io posso però cercare di essere ripieno di Spirito Santo, quindi non posso produrre, fare il lavoro che è solo dello Spirito Santo, ma posso e devo cercare di esserne ripieno dello Spirito Santo. E come posso fare questa cosa? La scrittura ce lo dice. Prima noi dobbiamo riempire la nostra mente delle verità del Vangelo. La prima cosa che dobbiamo fare è conoscere, meditare, maneggiare bene le scritture. La seconda cosa, noi dobbiamo essere obbedienti alla scrittura. La scrittura parla dei frutti dell'obbedienza, è un'opera potente di Dio nella nostra vita. Grandi cose nascono nella nostra vita come frutto di uno Spirito obbediente alla scrittura. E poi anche attraverso la preghiera. Leggiamo cosa dice l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, segnatevelo, prima Tessalonicesi al capitolo 5, i versetti dal 16 al 22. Dice così, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. Vediamo qui la preghiera. Continua l'Apostolo Paolo e dice, In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi vediamo la preghiera e la potenza di un cuore grato. Continua l'Apostolo Paolo e dice, Non spegnete lo Spirito. Com'è che possiamo spegnere lo Spirito? Con il peccato, l'acqua del peccato, anacqua. L'opera dello Spirito, l'acqua del peccato spegne il fuoco dello Spirito. Continua sempre l'Apostolo Paolo e dice, Non disprezzate le profezie. Per noi oggi le profezie sono principalmente la Sacra Scrittura. Quindi non possiamo disprezzare quello che Dio ha già detto e ha già lasciato scritto, masticato per noi. Continua l'Apostolo Paolo dicendo, Ma esaminate ogni cosa e ritenete i beni e astenetevi da ogni specie di male. Quindi di nuovo qui l'effetto della obbedienza che produce in noi santità. Quindi per concludere, sorelle, vorrei lasciarvi un altro versetto. In Efesini al capitolo 5, il versetto 18, lo leggeremo dalla parte B fino al versetto 20. Quindi segnatevelo. Efesini 5, 18b fino al 20. Dice così. Siate ricolmi di spirito parlandovi con salmi, inni e canti spirituali. Quindi per parlare con salmi dobbiamo conoscere i salmi, giusto? Quindi lui intende qui le scritture. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore il Signore. Emerge qui l'aspetto della lode. Solo un credente rigenerato riesce a lodare il Signore. Al versetto 20 continua e dice ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Di nuovo uno spirito grato verso Dio, verso l'opera di Dio nella storia, nel cosmo, nel mio paese, nella mia città, nella mia vita. Partite dal grande, non ringraziate solo per cose, a volte noi ci limitiamo a ringraziare per le cose piccoline. Non riusciamo a vedere che opera grandiosa il Signore sta facendo nella storia, nel mondo, nei paesi, nell'azione, nelle città, nelle nostre famiglie, nella nostra vita. Quindi mentre noi cerchiamo di essere ripieni dello Spirito Santo, Mentre noi cerchiamo le cose dell'alto, come dice l'Apostolo Paolo Colossese, dice cercate le cose di lassù, aspirate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Cerchiamo le cose dell'alto, cerchiamo il Signore. Mentre noi cerchiamo di essere ripieni di Spirito Santo, Lo Spirito Santo produce in noi tutti quei frutti che abbiamo visto nella Lettera e Galate, il capitolo 5. Quindi noi non cerchiamo di produrre in noi pace, gioia, niente di queste cose. Noi cerchiamo di essere ripieni dello Spirito Santo. E Lui produrrà i Suoi frutti in noi. Per concludere, vorrei lasciarvi delle parole del nostro Signore Gesù, affinché noi ci appropriiamo di queste parole. Gesù dice così, in Giovanni al capitolo 15, dal versetto 9 a 11, dice Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Quindi carissime, non importa cosa noi stiamo vivendo, non importa in che situazione è la nostra famiglia, il nostro paese, il nostro lavoro, noi possiamo avere gioia. Noi possiamo, dobbiamo aspettare di vedere che Dio cambierà la situazione, che Dio cambierà e risolverà tutti i nostri problemi, ma mentre aspettiamo noi possiamo provare gioia, in mezzo al caos, in mezzo ai problemi, con un cuore grato al Signore, ripieni dello Spirito Santo di Dio. Mentre noi aspettiamo di vedere l'opera di Dio completa nella nostra vita, noi da oggi possiamo avere gioia. E quando una donna ha la gioia del cuore, essa incendia la sua famiglia, i suoi figli, noi possiamo cambiare l'atmosfera della nostra casa, noi possiamo infondere speranza ai nostri figli, noi possiamo incoraggiare i nostri mariti che affrontano tante lotte nel loro ruolo di sacerdote domestico, noi possiamo veramente essere una luce accesa a tutte le persone che convivono con noi. Quindi noi afferriamo queste promesse del Signore e cerchiamo di ricevere dallo Spirito Santo potenza, affinché noi possiamo vivere secondo le promesse oggi e in tutti i giorni della nostra vita. Ora noi pregheremo e ringrazieremo il Signore.